Sono 50 milioni di euro quelli messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per il piano strategico rurale, rivolto ad un comparto che nella Regione rappresenta una fetta molto importante dell'economia globale. Cinque differenti bandi e la possibilità di accedere da parte di tutti coloro che rappresentino la categoria, anche le piccole realtà. Nel novembre 2015 abbiamo avuto approvato all'Unione Europea il nuovo PSR 14-20. Sono stati pubblicati finora 10 bandi per un impegno complessivo di 70 milioni di euro. Oggi abbiamo pubblicato ulteriori cinque bandi, cinque bandi fondamentali che riguardano la competitività delle imprese agricole, la commercializzazione, la trasformazione. Sulla misura 4-1 abbiamo investito 25 milioni di euro, 18 milioni di euro sulla trasformazione e poi 2 milioni e 300 mila euro per quanto riguarda la formazione, soprattutto per i giovani imprenditori agricoli e poi 2 misure per quanto riguarda il settore foreste. L'Abruzzo è coperto per oltre il 40% da boschi e foreste. Abbiamo elaborato 2 bandi, uno riservato agli enti pubblici e uno invece riservato alle imprese private. Com'è possibile accedere a questi bandi e dove sono tutte le richieste per chi ne volesse fare uso? Tutte le informazioni sono disponibili presso il nostro portale regionale, in particolare abbiamo psr.abruzzo.it che è il portale dedicato al piano di sviluppo rurale dove è possibile trovare tutte le informazioni utili per procedere con le istanze relative. Quali sono i requisiti? Sostanzialmente questi bandi hanno come beneficiare le imprese agricole regionali, inoltre ci sono opportunità anche per consorsi, reti d'impresa, enti pubblici, una serie di opportunità per il mondo agricolo e per quanto attiene al settore primario nel suo complesso. Sono risorse di sostegno fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la competitività e la capacità di trasformare e commercializzare.